La riapertura delle naidi non può più attendere, avere certezze, è necessaria all'utenza dell'impianto che si sta disperdendo al territorio che non ha un punto di riferimento storico per lo sport e ai lavoratori ai quali vanno date risposte e garanzie. Lo sostengono i consiglieri regionali e comunali del PD che hanno anche illustrato nei dettagli questa mattina in conferenza stampa l'interpellanza presentata il 9 luglio scorso al Consiglio regionale in cui si chiede di conoscere lo stato della procedura e i tempi della gara per il project financing a cui il rilancio dell'impianto delle piscine le naidi è stato inserito a seguito della delibera di giunta 270 del 2019. Il centro-sinistra chiede l'immediata riapertura dell'impianto di Viale Riviera Nord. L'11 di luglio è stata fatta una festa di inaugurazione qui, c'erano l'Iris e Febo, gli assessori regionali, c'era il presidente del Consiglio Sospiri, c'era Testa e c'era Masci, tutti quanti a festeggiare per la riapertura che sarebbe stata lì a pochi giorni, il 15 di luglio, in realtà non c'è stata, c'è stato un nuovo annuncio per gli inizi di agosto e anche lì non c'è stata la riapertura, poi dopo il 15 agosto e anche lì non c'è stata la riapertura, adesso si dice settembre e noi ci auguriamo che sia così, quindi chiediamo che la regione Abruzzo ci dia certezze sui tempi e che questa volta siano tempi veri e poi di riprendere la procedura del project financing in cui una società aveva chiesto di investire sulle NAIA di 10 milioni di euro, delibera del 20 maggio 2019 inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 della regione Abruzzo ma da allora nessun bando. È un'aggiunta lenta, nel caso delle NAIA è ancora più evidente questa lentezza, parliamo delle varie certificazioni, parliamo ovviamente anche del personale, dei dipendenti che debbono ancora siglare un contratto rispetto a un accordo che verbalmente già c'è e che è stato portato avanti tra la società che ha vinto il bando e lo stesso sindacato. Credo che sia una regione che si deve muovere anche perché è un patrimonio regionale di enorme valore e siamo in dirittura di arrivo per la partenza di una nuova stagione e le tante utenze, i tanti ragazzi, i bambini, le bambine, le famiglie hanno bisogno di capire come si procede e se possono iscriversi in questo prossimo anno a partire da settembre. Noi già nei mesi scorsi abbiamo fatto anche due audizioni di commissione con i sindacati per capire qual è la situazione e cosa il comune potesse fare per capire per i lavoratori e oggi sicuramente c'è la priorità assoluta che la regione faccia il più presto possibile per far sì che le famiglie che lavorano qui dentro e le famiglie che portano i bimbi a fare spot qui dentro possano avere già delle risposte perché se si parte troppo tardi chiaramente l'utenza sceglierà altre strutture e quindi si ricrea il problema fa poche settimane.